Come tutti gli anni aspetteremo l'arrivo della primavera da una finestra che è rimasta chiusa troppo a lungo da una stanza diventata troppo stretta da un cortile mutuo come tutti gli anni sarà la primula il primo fiore a svegliarsi ma questa volta la sua rinascita è anche la nostra. Viene a dirci che il momento è arrivato di abbandonare l'incertezza e schiudere i nostri colori alla luce del sole che ci vedrà ancora una volta insieme come primule che hanno sfidato il gelo l'italia rinasce con un fiore A presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti.